bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono luca e oggi siamo qui in un nuovo video di clash royale lo so che da tanto che non mando video ma oggi siamo qua su clash royale ok gianluca giorni a questa bella carta donna per favore non mancare wifi perché amichevole ok andiamo nelle missioni ancora il baune magico da ma voi non avete visto quando lo prendevo perché non ho fatto no me ne manca una prego non manca la cosa che vuoi e già e già 500 gem va bene ragazzi facciamo una partita entro domani perché l'ho già richiesto come potete vedere e iniziamo per la partita sono già andato in arena 5 mi sono dimenticato di far vedere le carte ma non ne uso nessuna perché ne ho vinte lì ce ne ho vinto lo specchio non cagate sapete quelle carte si chiamano merde ok grazie che mi lascivi fare la torre più o meno sì raga forse gliel'ho fatto sì questa è una buona educazione per le mongolfiere grazie mille le dico molto bene così no di là c'è troppo casino mi spiace ma è troppo casino qua le feste non sono ammesse nel mio territorio fatele a casa vostra sono più belle dai raga se resisto ok allora teoria sì la mia teoria potrebbe ma non non è giusto cioè potrebbe ma non potrebbe se metto il razzo qua poi metto il principe la mongolfiera cosa potrebbe succedere ok allora devo arrivare a 10 di elizir ok ragazzi siamo arrivati a 10 di elizir andiamo giù giù no ma vabbè finché stava fermo per me tanto stavo vincendo che scemo che sono vabbè ragazzi ho fatto la torre questo non mette più niente viva faccio che rifarli anche quella centrale tanto ok raga l'abbiamo vinta la prima ok ciao pubblico bar ok non avevo bauli ho vinto uno adesso ok blocchiamolo sblocchiamolo non bloccarti grazie ok eccole qua le mie carte di arena 5 quanto si arriva in arena 5 a quattrocento ok mille e quattrocento dove arriva in arena mille e quattrocento ok dai mi aiutate anche tu asecino mi aiuti ma raga comunque ho cambiato postazione di video ora i video li faccio al piano di sorte di casa mia sapete no cioè non sapete farò una prima o poi farò una un tour della mia casa grazie a tutti quelli che stanno avvenendo che stanno avvenendo ok ragazzi forse forse la vinco pure questa perchè lui non mi ha ancora toccato la torre e io glielo sto io l'ho già fatta ora quindi forse la vinco anche questa forse forse ragazzi è bloccato no madonna ragazzi sono in forza sono tutto morto infatti sto facendo un video mentre sono nella vara voi non lo vedete ragazzi il video è andato avanti non so perchè qua si è bloccato tutto da me vedete che io ok raga eeeh me l'ha distrutto sto principe nooo ragazzi non so se da voi si è bloccato ma speriamo di no perchè da me si sta bloccando ogni secondo ragazzi come appena detto qua taglierò tutti i pezzi non so Roberto finisci guardate qua ci sono i pezzi non so nooo ma è scemo il pecca avete visto dove me l'ha messo io dove l'ho selezionato non so se avevo ragione io aveva ragione lui e aveva ragione con la puttana dai raga la vinciamo eeeh non mi fa mettere le cose più avanti di così e vabbè farei alle parei ragazzi come è successo oh ho vinto madonna mia ci voleva tanto ok raga ok raga ci mancano due partite credo no forse tre due o tre vediamo faccio ancora una partita quello che si comprerà perchè altrimenti non me lo fa testare e non devo fare i video lunghi non iniziare a fare i bug perchè giuro che distruggo tutto eh i distruggo non devo fare come Cricri ma ho spaccato il tablet giocando a clash royale per favore dai su su e io la butto giù su oh la la perchè ci mette così tanto a fargli la torre non so a distruggere ci ha messo tanto a distruggere il drago infernale ci ha messo veramente tanto che strano questo gioco è raga farla blocchi non so da voi ma da me si sta bloccando sempre non mi fa mettere le carte bene guardate vedete non so se anche da voi si blocca perchè da me sta andando tutto male 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 ma dico male ma se mi chiedi come va va male 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 ma no malissimo si va malissimo qua ragazzi quindi ragazzi dai la devo vincere non so perchè ma con voi le vinco sempre quando le faccio da solo le partite faccio cagare al cazzo guardate per la parola cagare anche al cazzo dai cazzo fateli stator eh la la ce l'avete fatta che bello che soddisfazione paulo gigante si ma scioppiamo ma cosa me ne frega potevo vincerlo benissimo di arena 5 ma cacchio scioppa raga scioppa niente un cazzo di niente raga un cazzo di niente oh però me la miglioro yeeey ho scioppa due pauli ok raga ciao posterò una foto che arriverò in arena 5 di sicuro ciao iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mettete un like ciao